Continuiamo a parlare della scomparsa di Mirella Gregori, era proprio il 7 maggio di 40 anni fa, del 1983. 40 anni di mistero, il nostro titolo in studio, la sorella di Mirella, Maria Antonietta Gregori, il collega, giornalista e scrittore Mauro Valentini, che ha scritto il libro, ricordo, cronaca di una scomparsa su Mirella Gregori, vedete collegato anche l'avvocato Nicodemo Gentile, legale della famiglia Gregori e presidente di Penelope Italia, si aggiunge al nostro dibattito la nostra opinionista, la dottoressa Barbara Fabroni, psicoterapeuta e giornalista. Buonasera e bentornata. Buonasera Fabio, un saluto anche ai suoi ospiti. Riparto da lei, perché abbiamo avuto modo in passato di parlare del caso, della scomparsa di Mirella Gregori, però dopo aver sentito la prima parte di trasmissione, come spesso facciamo, le chiedo una prima sensazione, un primo suo pensiero su tutta questa storia. La mia prima sensazione è quella di grande smarrimento, di grande solitudine all'interno di questi 40 anni, in cui credo una famiglia abbia cercato disperatamente che cosa sia successo a Mirella, soprattutto perché ancora non hanno le risposte. Poi è chiaro, di fronte a una vicenda di questo genere, di domande e di ipotesi, ne possiamo fare tanti, però è anche vera una cosa, come diceva anche prima il dottor Valentini, questo caso è rimasto molto ai margini, cioè gli è stato dedicato veramente pochissimo tempo. Io che sono una curiosa mi sono messa in giro a cercare, oltre che a leggermi il bellissimo libro del dottor Valentini, ma sostanzialmente c'è stata poca stampa che ha preso a cuore questo caso e questo è un vero peccato. Oggi tra l'altro ho trovato una cosa molto interessante, c'è stato un ingegnere musicista che ha ripreso le vecchie foto sia di Emanuele Orlandi ma anche di Mirella Gregori, addirittura ha rifatto questi denti kit che pare verranno consegnati anche agli inquirenti, in cui tra l'altro è stato ricostruito il ragazzo con la frangetta, che si aggirava appunto sotto casa ed era stato visto nel momento in cui appunto c'è stata poi la sparizione di Mirella. E tutto questo credo che sia una cosa estremamente interessante, però credo che oggi a distanza di 40 anni sia doveroso riuscire a trovare quella che è anche una conclusione, un po' una sorta di chiudere un cerchio, anche perché vede, come diceva lei prima, i familiari hanno bisogno di avere un luogo, un porto dove una persona, se purtroppo Mirella è scomparsa ed è mancata e quindi non è più in vita, comunque andare a piangere, anche soltanto portare un fiore. Però lì si completa il ciclo della vita, ma soprattutto si dà, come dire, un luogo di riposo e si va oltre, si riesce comunque a chiudere un cerchio. Gonfiore significa che c'è sangue e liquido bloccati, e quando il tuo sistema linfatico è intasato, ecco che si verifica l'infiammazione. Ecco che è importante, perché io immagino la sorella portarsi all'interno del suo vissuto 40 anni di ricerche, 40 anni di assenza, 40 anni di mancanze, ma soprattutto lei, che ancora non era nemmeno maggiorenne, portarsi dentro una desolazione di questo genere, sostenere i genitori, che come ha detto lei, erano abbastanza grandi, perché l'hanno avuta in tarda età, comunque continuare la vita in questo percorso difficile, alla ricerca di un perché, soprattutto di un che cosa è successo. Quindi questa grande domanda che resta un grande sospeso, e ancora c'è tutto da scoprire, tutto da indagare. Se è vero che sta tutto dentro alle carte, se è vero che in quelle carte è nascosto, per così dire, la chiusura, e soprattutto la risposta a questo grande enigma, forse va veramente la pena di andare a rileggersi tutto, ma questa volta in maniera pontigliosa a ricercare le persone che all'epoca sono state anche interrogate dagli inquirenti, per poter comprendere finalmente che cosa è successo. Torno da Maria Antonietta Gregori, per chiedere altre cose interessanti, che potrebbero essere interessanti, perché poi anche il fatto di aver consegnato sua madre, i diari, a persone si sono qualificate con tanto di istintivo tesserino, però ci disse anche Pietro Orlandi, quando è scomparsa Emanuela, che andarono i servizi segreti a casa loro. Quindi quando si muovono i servizi segreti c'è qualcosa di losco sotto, evidentemente. Ecco, lo chiedo anche a tanti ospiti per altri casi. In questi anni avete mai ricevuto, al di là delle telefonate dell'americano, di cui parleremo, che rispose a quella telefonata al bar di Via Volturno, Filippo, tuo marito, telefonate, minacce, lettere, o soltanto segnalazioni di mitomani che poi comunque non hanno portato ad altro? Beh, nei primi tempi sì, assolutamente sì. Cagalli, persone... Solo queste cose? Minacce nessuna? No, minacce no, nessuna, ma persone che dicevano che sapevano dove stava Mirella, sotto compenso avrebbero detto dove, lettere che ipotizzavano che fosse da quella parte, allora tutti andavano a vedere lì se Mirella stava lì. È normale che un familiare, gli inquirenti, se arriva qualcosa, non possono lasciare nulla di intentato, no? È chiaro. Però ha dato di fatto niente. No, minacce assolutamente no. Ha fatto questo nella prima fase, sono passati 40 anni, no? Sì. O recentemente è successo qualcosa, altre segnalazioni? No, Mirella poi è... Praticamente si è chiusa la storia così e l'ha lasciata morire così. Mirella è sempre stata l'appendice di Emanuela, purtroppo. Come diceva allora... La frase che mio padre ha sempre detto era Mirella è una cittadina di serie B, purtroppo. Una scomparsa di serie B. Una cittadina è una scomparsa di serie B, perché Emanuela, cittadina vaticana, aveva più risalto, aveva più... A livello anche televisivo e giornalistico... Quando mi chiedono... Ma a volte mi chiedono perché si parla tanto di Emanuela Orlanti, perché è la prima, l'unica cittadina... A tutt'oggi a me me lo dicono, ancora mi dicono, ma perché non si parla di Mirella? Torno dall'avvocato Nicodemo Gentile, perché, come ricordavo prima, poi nell'ultima parte di trasmissione, quando inevitabilmente accomuneremo i due casi, con anche Michelle Maritato, che si collegherà con la dottoressa Barbara Fabbroni, parleremo anche di questa novità importante, la commissione parlamentare d'inchiesta. Volevo sentire l'avvocato su questo. È un passo molto importante questo, per la prima volta, non solo su Emanuela Orlandi, ma anche Mirella Gregori. Però continuano a procedere a braccetto le due storie. Però un suo pensiero sulla commissione parlamentare. La commissione parlamentare, ci auguriamo che venga dal Senato, dato il semaforo verde, a questa commissione, potrà, con poteri estremamente penetranti, risentire, rifare tutto il percorso. Noi ce l'auguriamo di cuore, perché adesso ci sono nuove consapevolezze. Sicuramente, se si riesce a rimettere, diciamo, mani sulle carte, questa volta, anche con la presenza nostra e di Penelope, questo mi sento di poterlo dire, Mirella non sarà la pendice di nessuna. Mirella aveva 15 anni e Mirella merita sicuramente quella centralità d'indagine mirata. Benvengano le piste che portano poi a un sviluppo parallelo di due scomparse, quella della Mirella e quella dell'Emanuela Orlandi. Però, nel frattempo, bisogna accendere i riflettori su tutta una serie di ombre, su tutta una serie di reticenze, di retromarce, di mezze verità, di marce indietro che in lo tempo portarono a dei confronti, a delle accuse di reticenza, portarono più persone a doversi confrontare tra di loro. Anche la stessa Maria Antonietta ha dovuto fare dei confronti. Inevitabilmente significa che già all'inizio c'erano state persone che si sono fatte portatrici di scivoloni dichiarativi, così noi li chiamiamo. Ci dobbiamo tornare su questo, a prescindere se poi ci sarà anche la vicenda di Emanuela, perché abbiamo adesso la consapevolezza di poter recriminare purtroppo in modo doloroso, perché Maria Antonietta e la sua famiglia avrebbero evitato ovviamente di chiedere con forza questo fatto, perché avrebbero voluto stasera la sorella, però noi lo dobbiamo fare, ormai non c'è più tempo di farsi contaminare dalla dilatazione mediatica di una storia rispetto a un altro. Maria Antonietta ha bisogno di chiudere il cerchio come ne hanno bisogno tutti i familiari degli scomparsi e allora adesso con la nostra presenza da questo momento in poi state pur certi che Mirella avrà la sua centralità, su questo non ci piove, abbiamo la forza, la capacità, anche investigativa, autonoma di poterci muovere a 360 gradi. Voglio dire una cosa e poi mi fermo, ho salutato con grande e importante favore le parole del procuratore Lovoi che sono comparse negli ultimi giorni su testate giornalistiche di livello nazionale molto importanti dove in maniera simbillina non ha detto nulla il procuratore ma venendo da un soggetto istituzionale di questo livello sono da salutare con favore che non si escludono possibilità di riapertura di queste due vicende io me lo auguro che ci sia quest'ulteriore sei alla ricerca di mobili che si adattino al tuo stile questa settimana sconti fino al questa ulteriore sensibilità me lo auguro di cuore e noi ci saremo presenti accanto alle istanze di Antonietta del marito dei figli che sono quei nipoti che non hanno potuto godere di una zia che sarebbe stata sicuramente meravigliosa e glielo dobbiamo e lo dobbiamo ad Antonietta è una battaglia che facciamo per tutti i familiari delle persone scomparse e tornando ecco proprio mi ha letto nel pensiero Lorenzo Fantini la foto che adesso ha mostrato la vediamo in primo piano Mirella dove sei e questo è un evento a cui sono particolarmente legato perché il modo appunto di fare da moderatore insieme a Mauro Valentini alla stessa Maria Antonietta Gregori poi venne anche Pietro Orlandi e come avete visto c'è il logo di Radio Cusano Campus questo per dire che forse siamo stati tra i pochi a seguire da un po' di anni la vicenda di Mirella Gregori questo è l'evento del 2019 ma su Wikipedia io nemmeno lo sapevo me l'ha segnalato oggi la collega Aurora Vena viene riportato proprio nel 2018 Maria Antonietta Gregori durante un'intervista all'emittente Radio Cusano Campus dell'Università degli Studi Niccolò Cusano ha invitato chiunque possa dare informazioni sul caso a contribuire affermando di essere in contatto con alcuni studi legali per ottenere una riapertura delle indagini quindi già nel 2018 già da allora stavi lavorando ed ora anche per agganciarmi a quello che ha appena detto l'avvocato Nicodemo Gentile perché comunque fino a quel momento era letteralmente dimenticata la storia di Mirella ultimamente qualcosina si è mosso però diciamo che l'Incip ce l'ha dato anche la Commissione parlamentare il fatto dell'apertura però già dal libro di Mauro no io dico la cosa proprio quella forte adesso no no assolutamente no diciamo che negli anni passati qualche giornalista si interessava a livello mediatico poi col libro di Mauro che è stato il primo e unico all'epoca a scrivere e a interessarsi e noi ne parlammo proprio in radio a interessarsi di Mirella perché fino ad allora nessuno aveva scritto libri su Mirella posso dire una cosa i primi incontri che facevamo con il pubblico insieme a Maria Antonietta le persone venivano e non sapevano neanche dell'esistenza di Mirella noi abbiamo fatto veramente un'opera quasi di riqualificazione e di di informazione e di informazione di una di una scomparsa che era veramente innominata io questa cosa mi colpiva molto perché andavamo a fare gli incontri la gente per la prima volta sembrava quasi accogliere senza sottolineare il fatto che per i primi incontri ti scambiavano per la sorella di di Emanuela Orlandi c'è stata una confusione che noi abbiamo cercato in qualche modo veramente facendo una serie di incontri lunghissimi io e Antonietta dal 2018 al 2019 questo questo che tu hai fatto vedere era uno dei tantissimi incontri che abbiamo fatto proprio perché volevamo raccontare non tanto la vicenda giudiziaria quanto la vicenda umana perché da tutto quello che sento dai discorsi che ha aperto Barbara e dalla puntualizzazione di Nicodemo riguardo alla famiglia Gregori quello che mi ha sempre colpito dall'inizio da quando ho conosciuto Antonietta ormai più di dieci anni fa è questa sensazione del fatto che li abbiano lasciati soli questa era una famiglia per bene che ha aspettato ha cercato e ha aspettato delle risposte da parte di chi deve per obbligo per istituzione e anche per perché è pagato per questo andare a cercare in una situazione tragica che è evidente che è tragica una madre che dopo due ore è in strada a cercare la figlia è evidente che è successo qualcosa di grave bene non si può aspettare non si può demandare non si può rimandargli a casa io immagino la prima notte che cosa sarà stata mandandoli a casa dicendo ma non vi preoccupate sarà andata a mangiare una pizza con le amiche sarà una una scappatella portare a un livello così basso una azione che doveva essere immediata investigativa veramente mi ha scioccato e io concludo dicendo che forse anzi no forse certamente anche grazie a istituzioni e ad associazioni come Penelope di cui io ho l'onore di aver fatto parte e comunque di seguire sempre con molta vicinanza e attenzione grazie ad associazioni come queste che adesso c'è un protocollo rispetto alle scomparse che non era quello dell'83 Nicodemo potrà aggiungere in maniera più puntuale e precisa ma adesso le istituzioni non possono comportarsi come si sono comportati con la signora Vittoria quando è andata al commissariato a dire che sua figlia non c'era più poi lo sentiamo su Penelope l'avvocato gentile poi drammi nel dramma ricordiamolo no i tuoi genitori poi secondo me non ci sono più non ci sono più anche per questo si è ammalata prematuramente anche per questo sia Paolo che Vittoria purtroppo sì perché mia madre prima di morire mi ha detto ti lascio a te questo fardello Mirella come diceva lui è sempre stata considerata l'altra ragazza quando abbiamo fatto le presentazioni dicevano ah sì appena iniziavamo a fare le presentazioni di Mirella capivano che era l'altra ragazza è sempre stata l'altra ragazza questo far capire no far capire anche a livello mediatico come non se ne sia mai parlato proprio per una serie poi di eventi ultimamente ho detto anche lo sottolineava Maria Antonietta con la commissione parlamentare d'inchiesta qualcosa diciamo che nella storia della Repubblica hanno portato poco o niente le commissioni purtroppo parlamentari d'inchiesta un po' di mezze verità parlo più la di Moro la P2 speriamo che con questa si possa arrivare a qualcosa di concreto volevo sentire però proprio a proposito però per noi è uno spiraglio di luce Fabio però soprattutto non solo per la famiglia Gregori però soprattutto già il fatto che se ne parli e che siano state e che qualcuno si è interessato adesso finalmente io spero che vada avanti è come se fosse un faro comunque acceso che può portare a risultati volevo sentire la dottoressa Fabroni sullo stato d'animo che può provare una persona come Maria Antonietta rispetto alle precedenti interviste essere qui il 7 maggio proprio il giorno della scomparsa della sorella non è affatto facile e quindi si percepisce un'emozione maggiore e l'ha detto lei stessa è una giornata troppo particolare quindi voglio sentire da psicoterapeuta anche un plauso a tutta la famiglia Gregori chi ha ricevuto questo testimone Maria Antonietta ma anche il marito Filippo come si vive ecco poi soprattutto con una sorella scomparsa che il padre definiva una scomparsa di serie B purtroppo vede in questa vicenda ci sono tanti momenti tristi la prima è la svalutazione di questo bisogno di questa famiglia cioè di ritrovare questa figlia Mirella dove sei dove sei finita poi oggi è sicuramente un compleanno tra virgolette estremamente importante ma io credo che la signora dovrebbe vivere questo compleanno e questo momento televisivo e non solo in due maniere diverse da una parte certo c'è il dolore questo grande enigma che ancora l'accompagna e soprattutto questa tra virgolette noi clinici diciamo a volte patata bollente che a volte la diamo all'altro perché porti avanti comunque un discorso che è stato interrotto purtroppo in questo caso dalla morte di due genitori quindi le dicevo da una parte sicuramente questo grande fartello e questo dolore comunque alla ricerca della verità ma dall'altra parte anche un'apertura finalmente questo bisogno è forse riconosciuto e finalmente si può fare qualcosa affinché la svalutazione che per 40 anni a questo caso è stata data in questo momento abbia una ricuscitura quindi una sorta di viatico nuovo che si può aprire alla ricerca di una verità qualunque questa sia ma che sia la verità di che cosa è successo a Mirella e soprattutto che fine ha fatto una cosa molto interessante che a me ha fatto ragionare il diario che loro non hanno aperto la famiglia non è andata a vedere il diario segreto e questo denota il grande rispetto di una famiglia e soprattutto di due genitori e una sorella e questo dà l'importanza della solidità di questa famiglia e dell'etica e della morale però al tempo stesso io credo che in quel diario forse se uno riesce a ritrovarlo qualche cosa può trovare perché vede all'epoca nei diari ed è una sorta di protocollo che io utilizzo spesso anche con i miei pazienti comunque continuare a scrivere perché nel diario si possono annotare tante piccole particolarità che a volte ai genitori o alla sorella stessa non si può raccontare e forse lì ci può essere qualche traccia in più io spero che loro recuperano anche questo diario e per questo ne ho parlato proprio per questo perché si può si potrebbe trovare qualche indizio utile certo esatto intrecciando poi tutti quanti i fili di questa indagine ma soprattutto che sia un'indagine solo per Mirella Gregori perché unirla ad altre situazioni fa perdere ulteriormente tempo io credo che questa ragazza che adesso sarebbe stata una donna forse con una famiglia con dei figli ha il diritto ancora oggi di avere comunque una giustizia e sapere che lei esiste esiste per essere Mirella Gregori punto ecco l'ultima parte di questo capitolo la lascio invece all'avvocato Nicodemo Gentile per diciamo riallacciarsi a quanto detto da Mauro Valentini oggi fortunatamente c'è un protocollo diverso quando c'è una persona scomparsa rispetto a quello di 40 anni fa sì c'è un protocollo diverso però anche oggi nonostante l'esistenza dei protocolli spesso assistiamo a dei vulnus importanti nella iniziale no messa in campo delle forze dell'intelligence della strategia che vanno a pregiudicare tante poi possibilità di riuscita di ritrovamento della persona o di un perché di una scomparsa una cosa che mi permetto di evidenziare che il nostro progetto attuale è quello di una azione che non sia solo demolitiva perché è evidente che se oggi dopo 40 anni parliamo di una scomparsa che non ha avuto nessun tipo di soluzione è perché a monte sicuramente come spesso avviene anche nei delitti quando si trovano dei cadaveri è evidente che ci sono state delle imperfezioni la nostra vuole essere anche costruttiva cioè dare degli impulsi nuovi perché è evidente che se noi arriviamo là con la penna rossa dicendo non è stato fatto questo non è stato fatto quell'altro dopo 40 anni muovendogli poi su degli elementi probatori che sono soprattutto di natura dichiarativa perché purtroppo negli anni 80 non c'erano i cellulari non c'erano i tracciati dei tabulati non c'erano i gps purtroppo ci muoviamo solo sulle dichiarazioni voi dovete pensare una cosa che quel telefono del bar della famiglia Gregori venne messo sotto intercettazione solo a partire da una certa data e quella telefonata che è fondamentale che parla addirittura della marca degli abiti della nostra Mirella non è stata intercettata noi non ce l'abbiamo abbiamo soltanto il ricordo di chi dall'altra parte della cornetta ha dovuto registrare questa chiamata che ha raggelato il sangue della famiglia perché forse quella nella storia sia di Mirella Gregori che di Manuela Orlandi è la telefonata più concreta che ci sia stata quella che di più ti fa pensare a qualcuno che in ogni caso ha acquisito forse anche di secondo o di terza mano delle notizie che si avvicinano ad una realtà perché poi in questo diciamo girandola di comunicati di telefonate di lettere anonime in realtà nessuno è riuscito mai a dare dimostrazione sia pure indiretta dell'esistenza in vita di queste due ragazze tranne questa telefonata che purtroppo per una imperfezione di indagini non è stata intercettata e poi solo successivamente si sono operate delle attività di captazione ma che poi non hanno avuto nessun tipo di rilievo da un punto di vista dell'indagine e questo ha fatto bene a dirlo perché poi l'ultima parte la dedichiamo a tutte queste tracce che ci sono state soprattutto però nella fase iniziale perché poi la famosa telefonata a cui fa riferimento è quella che prese Filippo al bar solo dopo venne messo sotto controllo subito quindi non esiste questa per capire poi che parlato anche in quel caso che potesse essere l'americano famoso che chiamava però è una cosa che fa veramente gelare il sangue e a voi subito l'ha fatto gelare perché indica con troppa precisione gli abiti quindi era qualcuno che aveva in mano Mirella assolutamente sì o quantomeno i vestiti di Mirella perché quando abbiamo fatto la denuncia noi la sera stessa non abbiamo indicato le marche degli indumenti mentre lì nella telefonata ci viene citato tutte le marche degli indumenti addirittura che colpirono le scarpe che aveva comprato insieme è l'intimo è l'intimo anche è l'intimo anche ripartiamo da qui anche per tornare sugli identikit su strani figuri che sua madre vide al giorno del restauro del bar ci sono tanti aspetti Raul Bonarelli avete visto una bellissima foto di Mirella con Papa Wittiva poi parleremo anche di questo restate con noi torniamo subito e ben ritrovati da Fabio Camillacci terzo capitolo di Crimini e Criminologia continuiamo a parlare anche se poi un po' tutta la trasmissione oggi ruoterà attorno ai 40 anni della scomparsa di Mirella Gregori 7 maggio 1983 sempre Maria Antonietta Gregori la sorella di Mirella Mauro Valentini siamo a Gardo nel Puntland nel nord della Somalia in un centro di stabilizzazione supportato da Save the Children quello che si vede qui fa veramente impressione ci sono bambini che sembrano molto più piccoli della loro età sono molto magri hanno anche tante complicazioni in collegamento vi vedete l'avvocato Nicodemo Gentile legale della famiglia Gregori presidente di Penelope Italia e la psicoterapeuta e giornalista Barbara Fabbroni questa parte finale con Maria Antonietta Gregori presente poi noi continueremo a parlarne ecco la dedichiamo a quelle poche cose che ci furono nell'immediatezza soprattutto quando i due casi cominciarono a viaggiare parallelamente quello di Emanuela Orlandi e quello di Mirella Gregori all'inizio in qualche modo questo fatto che viaggiassero in parallelo aiutò perché cominciò ad avere una rilevanza mediatica visibilità anche Mirella invece poi alla fine sono due casi che vanno considerati slegati assolutamente secondo noi adesso con tutto quello che è uscito fuori sì all'inizio pensavate sì perché c'erano tutti quei messaggi le telefonate è normale anzi i miei genitori erano l'appello del Papa che nomina prima sono arrivate le telefonate sono arrivate i messaggi l'avvocato internazionale che si occupava di tutte e due le famiglie quindi l'interesse l'avvocato Egidio Egidio che un interesse vivo vedevamo che c'era qualcuno che si occupava dopo tre mesi quattro mesi di silenzio c'era qualcuno che parlava di mia sorella e quando abbiamo sentito l'appello del Papa lì c'è abbiamo pensato è qualcosa di molto molto grande ecco ci commenti questa foto che è importante evidenziarla prima avete visto anche nelle immagini della Guardia Svizzera che c'era riferimento al Vaticano perché le due storie sono andate in parallelo per un bel periodo e il famoso annuncio l'appello che ricordava Mauro Valentini quando poi Papa Wojtyla disse Mirella Gregory no? non Gregory da Castel Gandolfo lo fece sì perché era era Gus ecco era la residenza estiva del Papa vediamo nuovamente quella foto con Carol Wojtyla perché poi molta stampa ecco vedendola così ce lo descrive Maria Antonietta cos'è questo incontro la vedete lì Mirella questa è un'udienza papale questa è un'eslusiva che ci ha regalato proprio sì un'udienza papale che ci fu dicembre del quattro mesi cinque mesi prima della scomparsa di Mirella e è tornata a casa che era sicuramente raggiante perché come potete vedere sulla foto era proprio vicino al Papa ha preso le mani il sorriso solare era contenta proprio e questa foto pare che sia stata attaccata un mese nella bacheca dell'osservatore romano questa invece già nel dettaglio sembra più che si guardino il Papa e Mirella stringendo molti hanno romanzato attorno a questa storia invece è bene far capire quello che era il contesto ben diverso qualcuno ipotizzò appunto che Mirella fosse stata scelta proprio in quella bacheca scelta da chi? ecco e questo non si sa anche perché poi venne allacciato al discorso Raul Bonarelli sul tizio che mia madre riconobbe parlare e qui torniamo a un altro punto importante con Mirella e la sua amica capo scorta del Papa perché nel dicembre dell'85 venne nella nostra parrocchia su una romentana e papà e mamma furono ricevuti dal Papa un'emozione grandissima perché potevano parlarci a tu per tu sperando che lui potesse fare qualcosa anche perché c'era stato l'appello precedentemente e proprio mentre aspettavano lì mamma scorse quest'uomo che gli sembrava lo stesso che parlava qualche volta con Mirella e l'amica sua del bar questo era il Bonarelli era convintissima tua madre sì sì assolutamente sì otto anni dopo venne chiamata per fare il confronto però lì già stava male e mia madre non riconobbe la persona quando ci fu il confronto io purtroppo non sono entrata perché hanno fatto il confronto all'americana e questo però è un punto importante perché tu hai sempre detto però tua madre non ti convinceva tanto no all'uscita quando gli ho chiesto beh mamma come è andata ha detto no no mi sa che non era lui il mi sa che non era lui a me mi ha lasciato un vuoto come se l'avessero detto non lo riconosca sì che c'è stato qualcosa che ha fatto sì gli ha fatto cambiare idea è questo punto importante e lì c'è una dedica la vediamo no? in questa foto sì che abbiamo visto fatta direttamente dal Papa ai miei genitori proprio nell'85 successivamente perché mamma gli portò questa foto questa foto adesso hai tu sì che appunto ci hai regalato ci hai dato la possibilità di mostrarla con tanto di dedica è importante anche per capire dicevamo questo questo dettaglio Mauro Valentini è fissa la data lì è il 15 dicembre dell'85 è quell'incontro che i genitori di di Mirella hanno con con il Papa e con Raul Bonorelli c'è da dire che i genitori questo insomma Antonietta me lo ha raccontato in maniera molto dettagliata i suoi genitori erano molto fiduciosi sul fatto che il Papa potesse in qualche modo essere di conforto proprio da un punto di vista perché ancora eravamo nell'85 già erano passati due anni e mezzo però c'era ancora questa speranza di questa risoluzione legata sempre alla questione diciamo papale vaticana e questo incontro con Raul Bonorelli è molto particolare per un motivo perché Raul Bonorelli nonostante sia stato riconosciuto dalla mamma sembra quasi non preoccuparsi proprio della questione di Mirella Gregori tant'è che viene chiamato otto anni dopo come ha detto Antonietta viene chiamato per un confronto e durante il tragitto in cui lui va verso la dottoressa Maisto che era la tenutaria dell'inchiesta lui ha un colloquio con qualcuno alto in alto grado della gendarmeria vaticana che gli impone di dire che lui che loro come vaticano non hanno niente riguardo ad Emanuela Orlandi quando arriva lì e trova invece non qualcuno che chiede di Emanuela ma qualcuno che chiede di Mirella con la mamma lì davanti esce c'è un'intercettazione che noi abbiamo pubblicato che è in cui lui si sente molto rassicurato del fatto che non dovesse parlare di Emanuela e fa però parlando con la moglie e non pensando di essere intercettato fa dei riferimenti a dei personaggi legati alla parrocchia lì vicino di San Giuseppe al Nomentano che in qualche modo potevano anche dopo secondo me dopo tutti quegli anni poteva essere in qualche modo indagato perché? Perché lui fa un riferimento specifico a dei personaggi che ruotano attorno alla parrocchia certo è che un uomo che lavora per il Vaticano probabilmente quell'ambiente lo conosce bene e se lui chiacchierando con la moglie indica tra i suoi sospetti per l'altra ragazza non si ricorda neanche come si chiama Mirella quello che dicevamo prima esatto neanche lui se lo ricorda però dice poi secondo me è stato la butta lì però poteva essere come dire non fa un nome fa un riferimento a dei personaggi che ruotano attorno alle parrocchie praticoni bravissimo lui disse i praticoni a Roma io insomma l'ambiente io sono io sono un coetaneo di di Antonietta e di Mirella pressa poco sono nel mezzo sono nel mezzo esatto bene a Roma le parrocchie si frequentavano erano veramente i circoli ricreativi più importanti almeno nel Lazio erano loro l'azione cattolica c'era tutta un associazionismo che faceva molto bene i giovani devo dire ma il praticone del prete il praticone del prete è qualcuno che sta sempre lì che ruota un po' un po' catechista un po' aiutante un po' chierichetto un po' factoto un po' porta borse insomma quanti potevano essere i praticoni del prete lì della parrocchia perché non si è andata a bussare lì e a chiedere nell'83 chi fossero i praticoni di quel prete ecco quella per esempio poteva essere un'altra pista perché ripeto Mirella sono convinto dalla conoscenza che ho di quello che ha raccontato Antonietta e anche di quello che noi abbiamo letto scritto da mamma Vittoria anche lei aveva un diario che ha lasciato tracce indelebili secondo me di quello che è stato quel periodo lì e quel momento bene Mirella era una ragazza accorta era una ragazza che non dava confidenza nessuno non aveva grilli per la testa per cui o la stretta amicizia oppure un ambiente che nell'83 nessuno poteva sospettare essere pericoloso ecco c'era anche c'era anche la CR la CR l'azione cattolica romana era ragazzi più grandi che tenevano esatto scusa l'azione cattolica ragazzi scusa volevo dire però scusa una precisazione non era la giudice ma era la Delerando all'epoca la Delerando che si è occupata che ha chiuso poi dopo ho confuso con scusa non era solo per pensare una cosa c'è questo riferimento è un errore ferale Mirella è stata scelta quella foto è stata che abbiamo visto prima hai detto che era stata esposta lì un mese ecco questo avvocato questa pista che adesso ha sollevato ha ricordato Mauro Valentini attualmente sarebbe praticabile per cercare di risalire a qualcosa lei che ne pensa lei che ne pensa può essere una pista questa allora a proposito di costruire un percorso perché al di là della dilatazione mediatica quando si parla di riapertura delle indagini appunto vanno indicate nuove piste nuovi percorsi praticabili perché altrimenti rimaniamo nella fase di esplorare situazioni che dopo 40 anni con grossa difficoltà non avendo anche neanche il supporto della tecnica della tecnologia dell'informatica perché allora non c'erano i tablet non c'erano gli android e quindi capite quanto è difficile allora questa pista della gendarmeria che nasce nell'85 presenta un po' di anomalie questo sì che potrebbe essere un elemento anche di spunto e di indagine da parte della costituenza speriamolo presto commissione ricordiamola che dovrebbe essere una commissione bicamerale con un numero importante di soggetti perché ecco verrà alimentata da entrambi le camere questo è molto importante quali sono le anomalie una l'ha detta già Mauro non si capisce perché uno spunto dato dalla famiglia Gregori nell'85 viene poi battuto nel 93 io questo sinceramente è un qualcosa qualcuno lo dovrà anche spiegare c'era nelle carte perché la mamma è andata subito dopo quell'incontro alla parrocchia del dicembre 85 tramite l'avvocato Egirio c'è stato tutto un percorso è arrivato comunque questo nome seconda cosa fondamentale non bisogna dimenticarla è quello che dicevate voi il discorso dei praticoni domanda importante e necessità di capire perché di una intercettazione è stata praticamente utilizzata soltanto la prima parte e non la seconda parte che era fondamentale cioè quello spunto che dice Mauro non è stato mai oggetto di approfondimento non si capisce il motivo anche perché purtroppo noi abbiamo una casistica che spesso ci fa inorridire ma purtroppo negli ambienti della chiesa di cose ne sono successe e noi di Penelope le conosciamo basta pensare alla Claps basta pensare per escludere le due vicende di cui stiamo ragionando e poi cosa fondamentale cosa fondamentale di questa pista è che poi si è scoperto che questo signore viveva in una via molto vicina al bar questo è importante non possiamo dimenticarlo certo e questo va collegato in modo forte fortissimo con quell'ulteriore elemento che non è stato mai chiarito di un possibile uomo definito degli aperitivi di un soggetto che comunque la stessa mamma di Mirella ha sempre detto che c'era una persona con le quali la ragazza ma la stessa forse Sonia non è mai intrattenuta quindi bisogna capire questo Bonarelli perché è stata solo mamma Vittoria a doverlo fare il confronto ma altre persone per capire se era una che frequentava o meno quella zona quel bar il ristorante della famiglia di Sonia questa persona l'ha vista soltanto mamma Vittoria che tra l'altro non è stato avanti nessuno dicendo no neanche lì al bar una foto o qualcosa ricordiamo che intorno a Mirella detto da Bocche che non hanno interessi a depistare giravano personaggi strani qualcuno è stato visto dalla stessa mamma di Antonietta il giorno precedente alla scomparsa il giorno dell'inaugurazione si parla di qualcuno che seguiva 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 Mirella tant'è che sono arrivati di un signore che spesso gravitava nel bar e con le quali le ragazze si sono anche intrattenute quindi è importante visto che questo signore abitava in una via molto vicina al bar che gestiscono la famiglia Gregori è molto vero questo dottoressa Fabroni le chiedo un minuto per una sua chiosa come ti piace fare poi ci rivediamo alle 23 per Italia in giallo e nero dove parleremo posso aggiungere una cosa prima prima di sentire la dottoressa c'è anche l'altra intercettazione al bar che non è stata presa in considerazione quella quella dell'amica Sonia che parla con una commessa e dice lui conosceva noi ma noi non conoscevamo lui come ha preso Mirella poteva prendere anche me infatti è una cosa importante anche questa e neanche questa Istituto Helvetico Sanders si prende cura dei tuoi capelli prenota subito la tua analisi gratuita in uno dei nostri centri siamo presa in considerazione cioè dei punti spunti che potrebbero essere ci sono abbastanza dottoressa Fabroni poi ci rivediamo alle 23 tanto una breve chiosa certo credo che di spunti ce ne siano veramente infiniti ne abbiamo tirati fuori tanti stasera esatto tu puoi iniziare veramente questa volta un viatico che porti davvero alla luce la verità insomma e la cosa particolare però che ancora una volta si intreccia la chiesa con il praticone e con quella situazione comunque che è vero che negli anni 80 gli adolescenti praticavano veramente la chiesa andavano in chiesa io mi ricordo c'erano le coccinelle i boy scout comunque c'era un centro di aggregazione importante però è una vicenda che a volte si unisce all'altra e poi si separa e mi sembra come ho detto poc'anzi che di elementi ce ne siano veramente tanti a questo punto vale veramente la pena di proseguire in questo percorso e soprattutto che questa volta i riflettori non si spengono ma che venga a questo caso tenuto sempre in vita dai giornalisti dalle persone comunque che possono mantenerlo in vita dottoressa Fabroni ci rivediamo alle 23 per Italia in giallo e nero Mirella Gregori Emanuella Orlandi e poi l'osservatorio criminologico di crimine e criminologia a più tardi grazie certo a dopo grazie buonasera dopo ci aggiungerà anche Michel Maritato ok